Qui al Quine Expo 2018 di Cintiana è stata molto importante la presenza dei consorsi di tutela. In questo caso parliamo della tutela dei vini DOC della Sicilia e parliamo con Maurizio Lunetta, direttore del consorzio DOC Sicilia. Siamo molto contenti di essere qui noi come consorzio perché dal 2019 noi cominceremo una campagna di promozione dei vini siciliani. Le nostre due vitigni più importanti che sono il Nero Davolo e Grillo che per adesso stanno avendo un ottimo riscontro a livello internazionale e stiamo puntando principalmente su questi due vitigni. Qui siamo con circa 10 aziende siciliane che stanno partecipando al Quine, devo dire che è un evento organizzato molto bene, complimenti all'organizzazione, ci aspettiamo grandi cose. Siamo nel sud d'Italia, proprio in fondo, in fondo, in fondo, è una terra che riceve tantissimo sole, caldo e quindi dà dei vini particolari di corpo con un buon grado alcolico. Noi abbiamo come dicevo prima due vitigni che sono il Nero Davolo e il Grillo che danno origine a vini anche molto differenti anche a secondo dove vengono coltivati ed è sempre questo che ci piace. Il nostro logo è proprio un mosaico perché la Sicilia è un mosaico di territori e quindi anche di vini diversi. Come fate come consorzio per promuovere questa diversità della Sicilia nel mondo? Noi abbiamo fatto un'opportunità, la diversità è la nostra forza perché la DOC Sicilia, noi promuoviamo il brand Sicilia, la regione è più o meno conosciuta nel mondo, molti sanno dov'è, altri ancora devono scoprirla e noi leghiamo molto il nostro territorio alla nostra storia e tradizione che in Italia ne abbiamo tantissima. come Sicilia siamo diciamo al centro del Mediterraneo, sono passati più di dodici popoli diversi che ci hanno colonizzato e ognuno di loro ha lasciato una traccia forte inderebile e che troviamo nei vini perché noi abbiamo vini che vengono direttamente dalla Grecia ai tempi quindi diciamo circa duemila anni fa fino a vini come il Grillo che sono nati nel 1880. Ed è anche importante essere presenti sul mercato asiatico immagino perché siete qui al Quelen Expo? Certo, noi abbiamo una produzione molto grande in Sicilia, dicevo 100 mila ettari, la DOC Sicilia oggi conta 7200 viticoltori, 320 cantine e fine anno imbottiglieremo circa 80 milioni di bottiglie. Molte aziende stanno credendo al progetto DOC Sicilia perché è un brand che tira, è un brand conosciuto e stiamo portando al di là di una sticella anche le piccole aziende vitivinicole che hanno difficoltà a uscire fuori. Salutiamo i nostri amici di Jopindao con un saluto cinese. Ciao, ciao.